La gloria del Signore si è manifestata. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella Domenica di Pasqua il 16 aprile. In ogni Domenica Pasqua della settimana la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. L'ascensione del Signore il 28 maggio. La festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo il 18 giugno. La prima Domenica di Avvento il 13. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli dei Santi, e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, l'ode perenne dei secoli, dei secoli di pane. Grazie. 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 Grazie.